siamo qui sempre 21 maggio 2021 faccio questo video perché mi sono dimenticato di dire una cosa ovvero la solidarietà a luigi baratini che gli hanno chiuso il canale ovviamente lui è un ricercatore che va a fondo alle cose purtroppo a fondo a certi argomenti non ci si può andare sia perché il sistema non lo vuole sia perché l'utenza non è preparata a raccogliere queste ricerche approfondite so perfettamente come ci si sente luigi amico nella battaglia di ricerche sicuramente quindi solidale per questo ci hanno chiuso un bel po di canali e noi di cui uno grandissimo e uno un po più piccolo perché perché certe verità non devono passare ma non perché uno vuole arrivare alle verità assolute perché non deve iniziare nemmeno il percorso di ricerca di quelle verità sia vera o falsa non importa sia da verificare o meno non importa non deve nemmeno pensare di iniziare un percorso di verità diversa che non sia quella imposta dal sistema dal ministero della verità quindi grande solidarietà da parte mia da parte di accademia della libertà a lui al grande grande ricercatore luigi baratieri troppe ricerche sono troppo elevate ti poteva capire poca gente in ogni caso dico a tutti gli amici che lui ha già un canale sul rambo come ce l'abbiamo anche noi quindi continuatelo a seguire e sostenetelo andando a cercarlo sulle altre piattaforme grazie